ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con pesto di noce ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di cottura della pasta gli ingredienti sono noci ricotta fresca olio parmigiano prezzemolo basilico e pasta lunga andiamo via la ricetta prima di iniziare la ricetta con il bimbi mettiamo a bollire una pentola con abbondante acqua salata e facciamo cuocere la pasta che scolleremo al dente mettiamo all'interno del boccale il parmigiano il prezzemolo il basilico e le noce e facciamo dritare per 40 secondi a velocità 8 questo punto riuniamo con una spadola sul fondo del boccale aggiungiamo la ricotta e l'olio e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 8 recuperiamo con la spatola il pesto sul coperchio se fosse necessario ripetere l'operazione il pesto è pronto trasferiamola in una ciotola e condiamo la pasta non appena sarà cotta pasta con pesto di noci e ricotta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti